Un supporto concreto con quelle risorse umane preparate al meglio ad affrontare situazioni di emergenza. Il gruppo di protezione civile del comune di Pavia, coordinato da Massimo Braghieri, è stato impegnato nelle zone colpite dai terremoti di due mesi fa per un lavoro sinergico con i vigili del fuoco locali, nei comuni di San Giacomo delle Segnate e Moglia, in provincia di Mantova. Nei settimane scorse abbiamo partecipato come gruppo comunale di protezione civile del comune di Pavia a una missione nelle zone terremotate del Mantovano, esattamente a Moglia e a San Giacomo delle Segnate con dei nostri volontari che si sono recati sul posto a svolgere le attività necessarie appunto al mantenimento della sicurezza nell'area e allo smantellamento del campo di San Giacomo delle Segnate. Il gruppo di Pavia ha fatto con molto entusiasmo questa missione è stata un'esperienza importante per i volontari che hanno partecipato e per il gruppo intero. I volontari che hanno partecipato sono Iaria Giovanni, Belotti Michele e Salvini Andrea. Abbiamo partecipato al campo di Moglia una settimana in presidio della zona rossa, quindi eravamo chiamati a regolare gli accessi e fare sicurezza nella zona rossa, quindi a evitare che succedessero incidenti anche gravi nelle zone più duramente colpite della città. Il centro di Moglia è stato profondamente devastato dal sisma, abbiamo il municipio, la chiesa e un sacco di edifici privati devastati dal sisma ed è necessario sia per la sicurezza della popolazione sia per regolare anche il ripristino di queste zone, regolare gli ingressi e aiutare i vigili del fuoco nei loro interventi. Un'altra attività che è stata fatta dal gruppo è stata quella invece dello smantellamento del campo di San Giacomo delle Segnate e qui lascio la parola ad Andrea. Andrea Salvini, ero a San Giacomo delle Segnate insieme a altri 25 volontari di tutta la provincia di Pavia. Il nostro compito è stato quello di smontare l'intero campo dove erano ospettate più o meno sulle 300 persone. Abbiamo fatto lo smontaggio di 44 tende e di tutto ciò che comporta il funzionamento del campo. Siamo stati bravi dal punto di vista anche dei funzionali della regione perché non si aspettavano così in poco tempo lo smontaggio completo del campo. Ovvio che abbiamo partecipato meno all'interagire e all'integrazione con la comunità ma abbiamo avuto anche modo di parlare con i cittadini e fare conoscenza con i cittadini di San Giacomo e abbiamo preso visione dei danni provocati dalla scossa, specialmente dalla seconda scossa del 29 maggio. L'esperienza che abbiamo avuto è stata una... è brutto da dire in questi termini ma è stata una bellissima esperienza perché è stata un'esperienza molto intensa dal punto di vista umano perché ci ha visto interagire sia con gli altri volontari, quindi con altre persone motivate dagli stessi principi che ci hanno spinto a intervenire nel campo sia con la popolazione stessa. E devo dire che abbiamo trovato uno spirito che non ci aspettavamo di persone segnate dal dramma, dal terremoto ma comunque motivate a tornare alla vita normale e a ricominciare e a ricostruire le loro vite veramente con dignità e molta voglia di fare.